Oh, sorcini, ci siete? Oh, non dimenticatemi, eh? Oh no! Il dirizio ce l'ha, e tra i giocchi non è un problema, il bene è corrido, però la serata la scala, il bel testo non sai, guardo il mio cuore di rischio, dare un grande letto, valmi spazio e dopo via. Quindi voi l'ha fatto? Oh, e quando lo sai? Eh, qualcuno è la vita l'ha fatto, e il piano. Lui l'hai contato con te, il suo ruolo mi spieghi, qual è? Io voglio anche un po' per me da sola. Sì, mai. Vai, vai, vai. Volevo. Ma ti vincite le porto con te. Mortalo. Mortalo. Tutti ieri, tu cos'è? Tu cos'è? Tu cos'è? Tu come? Al contatto, ma certo, più troppo, se sono ognuno, se sono ognuno, e se è un rapporto un po' più normale, ma la eventualità, la rima è tutta passione, sulla spiegami in grande, alle giorni, qui, negli adulti, e in merito che non mi prendi in braccia più perché no? Tu non ho proprio sentito, non mi prendi in braccia, ma lo vedi? Renato? E' tu? E' tu? Renato? Grazie a tutti.